Buon pomeriggio e benvenuti a questo nuovo appuntamento con prospettive settimanale da parte di Matteo Ciofi. Oggi abbiamo qui con noi in studio un ospite speciale. Ringrazio per la partecipazione il professor Massimo Faggioli. Grazie a voi. Professore di teologia all'Università Villanova di Filadelfia, ma non solo, anche autore ed uno dei direttori del magazine Common Will. Esatto, grazie per avermi qui. Piacere nostro perché parleremo di tanti argomenti oggi, però vorrei partire dall'attualità e quindi dal suo libro che è uscito alcuni mesi fa. Questo qui è il libro, il titolo è The Rising Lady, edito da Polis Press. È un libro che è nuovo ovviamente, ma che si basa su un testo di tre anni fa, del 2013, scritto in italiano. Questo invece è in inglese, però con l'aggiunta appunto, mi diceva precedentemente, di un capitolo in più. Possiamo parlarne rapidamente o comunque illustrarne quantomeno i temi. Certo, il libro del 2013 era uno studio su cosa ha significato il fenomeno dei movimenti cattolici nella Chiesa dal Concilio oggi, in questi mesi 50 anni. Quindi cosa ha significato il pontificato di Paolo VI, Giovanni Paolo II, Papa Benedetto. Il fatto è che nel 2013 è successo quello che è successo, l'elezione di Papa Francesco e quindi nel momento dell'edizione americana in lingua inglese era ovvio porsi il problema di un capitolo su Papa Francesco, perché Papa Francesco ha detto cose molto interessanti sui movimenti che hanno cambiato un po' la posizione del Papa rispetto a questo fenomeno. Quindi il capitolo nuovo è questo, perché Papa Francesco ha un'ottica ecclesiologica, si dice in gergo, cioè di un rapporto diverso tra la Chiesa e le parrocchie, diciamo, con dei movimenti rispetto a Giovanni Paolo II e a Benedetto XVI. È un libro, diciamo, specialistico, che quindi entra nel dettaglio, con tecnicismi, quindi non è facilissimo da raccontare a tutti gli spettatori. Però noi vogliamo un attimo raccontare, oltre appunto i temi, se c'è qualche chiave specifica che lei ha voluto approfondire. La chiave specifica sono alcune. La prima è questa, che nella Chiesa Cattolica degli ultimi 50 anni i movimenti sono un fenomeno importantissimo, molto visibile, ma allo stesso tempo molto poco studiato, perché è un oggetto difficile da studiare e io sono uno dei pochi che ha avuto l'idea di scrivere dei libri sui movimenti. La seconda chiave è questa, che l'importanza del fenomeno è basato sul fatto che fino a 50 anni fa circa la Chiesa era fatta di una struttura territoriale, i vescovi, le diocesi e i parroci nelle parrocchie. Negli ultimi 50 anni si è visto che questa struttura non riesce a comprendere il fenomeno cattolico e ci sono delle altre realtà che non sono territoriali, ma che si appellano a dei gruppi specifici come gli studenti, o i giovani sposi, o persone in ricerca. E i movimenti sono il tentativo della Chiesa di non lasciare andare dei tipi di cattolici che non è facile inquadrare nella Chiesa territoriale perché si spostano molto, o perché sono studenti, perché sono giovani. Quindi queste sono le due chiavi per cui questa ricerca credo che sia utile e anche importante. Allora, dobbiamo dire una cosa. Lei si è trasferito negli Stati Uniti dal 2008. Esatto. Quindi ormai sono diversi anni che vive la realtà nordamericana e statunitense. Giorni fa leggevo un'intervista che lei ha rilasciato ed è stata pubblicata da Rai News riguardo proprio il viaggio dello scorso settembre del Papa negli Stati Uniti. Ed una cosa che ha detto e che appunto voglio citare è che alla fine di questo viaggio lei ha detto che si tratta di riconoscere che non esiste più un monopolio culturale sul cattolicesimo globale da parte di una cultura sola. Che è un'affermazione ovviamente interessante, ma che secondo me merita un attimo di essere snocciolata, no? Perché dietro sicuramente c'è molto. Certo. Ma attorno al Papa Francesco l'inganno più facile è quello di categorizzarlo come un Papa liberale o progressista o insomma, molti modi. Ma quello che sfugge a volte secondo me è che questo Papa è così interessante e una sfida per i modi cattolici perché ancora prima di porsi il problema del progressismo o del liberalismo teologico è un Papa che non viene dall'Europa e quindi quello che lui propone di nuovo è la rappresentazione fisica, cioè lui, la sua storia, la sua biografia, il suo modo di essere Papa che non è quello di un cattolico europeo. Quindi a molti cattolici sconvolge il modo in cui Papa parla della famiglia per esempio, ma è il modo normale di moltissimi preti e vescovi nell'America Latina. Non solo, ma insomma non europei e in particolare non nordamericani. Ora il problema di molti cattolici nordamericani e in particolare degli Stati Uniti è la tentazione di pensare che il cattolicesimo sia una forma perfetta per definire la cultura occidentale. E questo non è vero, questo non è mai stato vero, ma negli ultimi anni, specialmente dopo l'11 settembre, dopo tutte queste cose, insomma il mondo globale che è in crisi, c'è stata la tentazione di dire che il cattolicesimo è la cultura occidentale. E no, il cattolicesimo è molto di più, è anche la cultura occidentale, ma anche esito il cattolicesimo asiatico, esito il cattolicesimo africano, latinoamericano. Papa Francesco mette di fronte a tutti questa evidenza che il cattolicesimo non è ostaggio di nessuna cultura o una cultura. Fondamentalmente bisogna uscire dall'idea di un cattolicesimo eurocentrico e soprattutto bisogna prendere magari delle distanze da uno dei predecessori, ossia da Carol Voitiva, che sicuramente era un papa, parliamo di tempi diversi e quindi di un mondo diverso, ma che aveva sicuramente una visione differente, forse più legata appunto a un concetto di Europa, a una sovrapposizione identitaria di cattolicesimo a Europa. C'è uno scarto sicuramente, anche perché Giovanni Paolo II era un papa che era molto europeo, nel senso che aveva visto la tragedia della spaccatura della sua patria, la Polonia negli anni venti e poi il nazismo in Germania, la seconda guerra mondiale, il comunismo neoporidentale, quindi è un papa molto europeo perché l'Europa era stata il teatro di queste in mani tragedie politiche. Ora, Papa Francesco nella sua biografia ha altre tragedie, per esempio lo scontro tra la Chiesa e dei regimi politici di altro segno, non comunisti ma anticomunisti, quindi questo è tipico della Chiesa Cattolica di riscoprire volti diversi della sua identità in momenti diversi, quindi contrapporre Giovanni Paolo II e Papa Francesco non ha senso, ma non ha senso neanche ignorare che sono volte diversi, questo è evidente ed è parte di un meccanismo naturale di una tensione di adattarsi da un papa a un altro, specialmente dopo un pontificato così importante come quello di Giovanni Paolo II. Come dicevo in precedenza, lei è qui dal 2008, voglio fare due domande che sono relative a una sorta di parallelismo di confronto, se così possiamo chiamarlo, fra il modo di vivere la fede che c'è negli Stati Uniti e il modo di viverlo non tanto in Europa ma prevalentemente in Italia, perché sono ovviamente due maniere ben diverse e distinte. Quali sono gli aspetti che balsano all'occhio più facilmente? Ma per un italiano l'esperienza di fede cattolica in Italia viene con il DNA, insomma, quindi uno è inserito in un contesto culturale, sociale e anche di fede perché sei italiano, un po' è così. E negli Stati Uniti invece essere membro di una Chiesa è quasi sempre frutto di una scelta, molti americani cambiano due o tre chiese durante la loro vita e anche essere cattolici è parte di una scelta che ha un carattere di militanza, cioè di essere membri attivi e impegnati in un certo modo militante, insomma agguerrito. Questa è una delle differenze e l'altra differenza è che nel discorso religioso negli Stati Uniti l'aspetto morale e su alcune questioni morali specialmente di etica sessuale così è molto più evidente che in Italia dove c'è un atteggiamento più pragmatico o più cinico rispetto alle questioni sessuali. Quindi questa è un'altra differenza a favore dei Stati Uniti è il fatto che nei Stati Uniti il discorso teologico, la teologia accademica è molto più parte del dibattito culturale e quindi questa è una delle mie fortune perché esistono moltissime università cattoliche che in Italia non esistono, esiste una a Milano dove non si insegna teologia peraltro, non lo si è mai fatto, insomma quindi questo sono più e meno diversi a seconda degli scenari. Questa risposta mi dà anche l'aggancio per fare la seconda domanda relativa al parallelismo. Usciamo dal discorso di fede ma in qualità di persona che ha studiato, di ricercatore, esistono delle differenze o in qualche modo si pone in maniera diverso l'accento su alcuni temi in Italia o negli Stati Uniti riguardo appunto gli studi teologici? Ma quello che in Italia si fa di più sicuramente è un discorso storico sulla Chiesa, sulla religione. Si ha l'idea che è necessaria una comprensione storica delle cose perché le cose hanno una vita lunga, le idee, le istituzioni, le strutture hanno una vita lunga. Negli Stati Uniti e nel Nord America in generale l'aspetto storico è penalizzato anche perché c'è una storia molto più così insomma recente, breve, ma anche culturalmente perché è un mondo molto più orientato sul nuovo, su domani e quindi la dimensione ieri è meno rilevante ma questo è stato per me una fortuna perché io come storico avevo molto più mercato, avevo molto più da offrire a un mercato che era abbastanza nuovo da questo punto di vista. Quindi c'è comunque uno sguardo più sulla prospettiva, più sul domani, sul futuro. Credo che questo poi sia poi fondamentalmente legato al background storico dei due paesi. Certo, esattamente, non stupisce, ma per la Chiesa Cattolica a volte uno si potrebbe aspettare una coscienza storica maggiore perché la Chiesa Cattolica è così antica, è così vecchia, invece anche dal lato cattolico negli Stati Uniti si ha l'impressione che la questione storica sia vista come un po' meno importante rispetto alla Chiesa Europea. Questa è un'impressione. Ci avviciniamo alla conclusione di questo anno straordinario, questo giubileo straordinario incentrato sul tema della misericordia. Ovviamente Papa Francesco è il grande artefice, l'ideatore. In questo anno c'è stato anche spazio per la giornata mondiale della gioventù in Polonia. Possiamo cominciare a fare un bilancio di questo anno straordinario? Sì, anche se gli eventi nella storia della Chiesa hanno una vita molto lunga e quindi richiedono tempi di recessione molto lunghi. Ma è evidente che l'intuizione di Papa Francesco di un anno sulla misericordia ha colto un elemento critico nel mondo di oggi che è attraversato da crisi politico-sociali a ogni latitudine. La chiave della misericordia io credo che sia l'intuizione geniale del pontificato che non offre una ricetta politica perché il papato non è in grado di ricevere la ricetta politica ma riscopre una chiave umana per la soluzione di alcune crisi. Quindi questo è un po' il genio del cattolicesimo, parlare in linguaggio spirituale delle emergenze umane, sociali e politiche di oggi. Quindi il giubileo secondo me va letto anche da questo punto di vista. È ovvio che la misericordia non è una cosa che si chiude l'8 dicembre di quest'anno con la fine del giubileo ma è interessante che questo tema della misericordia viene direttamente da Giovanni Viteresimo che chiamò il concilio Vaticano II nel 1959 dicendo che oggi la Chiesa deve riscoprire la medicina della misericordia. Quindi questo c'è un legame diretto tra due papi secondo me più importanti degli ultimi 50 anni. Ovviamente però è stato un anno sì della misericordia ma anche bagnato di sangue perché questo è poi quello che insomma la cronaca e l'attualità ci continuano a raccontare anche se recentemente nel volo di ritorno dalla Polonia Papa Francesco ha detto sì, è vero tutto ma non è una guerra di religione. Questa è una frase comunque importante perché prende delle distanze. È anche vero che il grido di misericordia si è alzato sempre più forte in questo anno che dall'altro punto di vista. È stato così ricco di eventi drammatici e tragici. In questo momento Papa Francesco è la voce più autorevole nel mondo che tenta di richiamare alla ragione quelle voci che vorrebbero tanto della Chiesa Cattolica una dichiarazione di guerra verso l'Islam. Quindi Papa Francesco ha un lavoro difficilissimo da fare perché ha una pressione formidabile di una certa parte del mondo intellettuale, mondo politico. È una frase molto importante quella che lui ha detto perché innanzitutto mostra il rispetto del Papa verso l'Islam, di definire Islam quello che è Islam. Che la Chiesa Cattolica definisca cosa è Islam al posto dell'Islam è una cosa che il Papa non vuole fare e molto giustamente. La seconda cosa è che Francesco è molto consapevole che chi invita la Chiesa Cattolica a dichiarare questa guerra in guerra di religione lo fa non per motivi teologici o spirituali ma per motivi politici. Questo Papa è molto bravo a capire quando qualcuno vuole usarlo. In questo caso lui sa benissimo che la voce della Chiesa tende a essere usata facilmente e quindi Papa Francesco è una grande garanzia da questo punto di vista. Diciamo che cerca giustamente di uscire dal rischio della provocazione e dell'entrare in questa sorta di combattimento dialettico dicendo un qualcosa che poi potrebbe scatenare una serie di conseguenze notevoli. Sì, anche perché chi ora invita Papa Francesco a dichiarare la guerra di religione è gente che non è particolarmente nota per la loro vita spirituale o per la loro militanza cattolica. È gente che proviene da tutto un altro background. Quindi il fatto è che non c'è alternativa nel mondo di oggi alle religioni che si parlino. È esattamente questo che un certo tipo di teorismo vuole impedire e il Papa non vuole esporre la Chiesa a fare il gioco di chi è esattamente contrario a questo scenario futuro. Quindi in questo senso l'Islam è la prima vittima del terrorismo e la Chiesa cattolica rischia di diventare parte di questa lotta intestina che trascinerebbe il mondo occidentale automaticamente dentro di sé. Quindi questo è un gioco molto complicato e molto sottile che vede il papato in prima linea e non c'è altro modo di definirlo se non una voce profetica quella del Papa, credo. Questo anno straordinario è stato anticipato in qualche modo dal sinodo e all'interno invece di questo anno abbiamo avuto l'esortazione post-sinodale Amoris Laetitia. Il concetto principale che emerge è il tema del discernimento. Questa è la parola che troviamo appunto in Amoris Laetitia ed è insomma il suggerimento di fatto del Papa nei confronti verso i parroci di discernere appunto fatto per fatto le varie situazioni che devono in qualche modo affrontare. Cosa ci rimane di questo sinodo nel senso oltre questo concetto che è assolutamente importante? Ma del sinodo rimane il fatto che questo sinodo in due puntate, 2014-2015, è stato l'evento più importante di dibattito all'interno della Chiesa e dal Concilio oggi, negli ultimi 50 anni, non c'è dubbio di questo. L'attenzione dei media è stata assolutamente giustificata. Quindi quello rimane che la Chiesa sa che non può porsi domande nuove senza interrogarsi su un piano più ampio che solo il Papa o i suoi consiglieri. Quindi questo rimane. La seconda cosa è che la questione del discernimento in una parola racchiude la questione cattolica oggi. Una Chiesa con una forte identità, una forte cultura, un forte sistema giuridico, ma che non può prescindere dalla dimensione della coscienza individuale e che non può prescindere dal fatto che ogni situazione personale va a incidere su un certo tipo di tessuto sociale, parrocchiale, ecclesiale, locale. Quindi questo secondo me è il fatto che ora viene a impuntarsi sulla questione del matrimonio e della famiglia, ma che ha delle precauzioni su tutto il resto. È impensabile una Chiesa che funzioni senza il discernimento. Questo lo sapevamo anche prima. Papà Francesco ha avuto il coraggio da Papa di dire la Chiesa deve avere rispetto della questione di coscienza personale e di verticolare il suo giudizio della Chiesa, che c'è un giudizio, ma in modo diverso, non astratto dalle questioni particolari. Questo è quello che secondo me rimarrà veramente. Come poi dicevamo in precedenza, alla fine questi fatti importanti nel mondo cattolico e della Chiesa hanno sempre poi una riuscita diversa, bisogna attendere del tempo prima di coglierne effettivamente le conseguenze e gli effetti. Hanno tutti i tempi lunghi, ogni pontificato ha dei tempi lunghi, ogni decisione della Chiesa, ogni magistero ha tempi lunghi e la stessa cosa vale per il sinodo, per l'esortazione e per il pontificato di Papa Francesco. Noi siamo in mezzo, bisogna osservarlo con la massima attenzione, ma senza pensare di avere già risultato, perché questo non è nelle nostre mani. Parlando appunto di sinodo, di amoris letizia, vorrei chiederle un'opinione sul linguaggio di Papa Francesco, che è sicuramente una delle cose che quotidianamente ci ritroviamo di fronte, perché quasi ogni sua dichiarazione è un perfetto titolo. Diciamo che è di grande aiuto per i giornalisti e per le persone del mondo della comunicazione. È vero che tanti hanno detto è il Papa del popolo, probabilmente lo è anche perché parla un linguaggio talmente facile e per facile intendo efficace, arriva così direttamente che questo forse è uno dei motivi anche per cui è un Papa del popolo. È un Papa del popolo perché parla un linguaggio popolare, è vero, ma all'interno del popolare ci sono delle sotto insiemi. È un linguaggio pastorale, quindi non è un linguaggio accademico di chi parla a chi sa già un certo linguaggio a un certo livello, quindi è un linguaggio popolare. È un linguaggio poetico, è un Papa che conosce molto bene la letteratura, e il linguaggio letterario dell'immaginazione letteraria è molto più che il linguaggio a volte arido dell'accademia. È un linguaggio simbolico, in questo senso è un linguaggio nuovo per un Papa e il salto è particolarmente visibile da Papa Benedetto che era un Papa accademico, un universitario, a Papa Francesco. in questo senso c'è un grande salto, esiste un'assemiglianza ancora una volta con Papa Giovanni XXIII che aveva questa sapienza di usare la sapienza non solo biblica, ma anche popolare per spiegare alcune cose. In questo Papa Francesco è un perfetto corrispondente del Papa Buono Giovanni XXIII. Siamo quasi in chiusura, l'ultima domanda la voglio fare su un'altra delle proposte di Papa Francesco che è l'istituzione di questa commissione per il diaconato delle donne. Insomma, siamo di fronte a un altro punto di svolta, a un qualcosa di estremamente importante. Cosa possiamo aspettarci? È importante perché una commissione del genere non c'era mai stata e non ci si aspettava una commissione del genere. Quindi è importante di sicuro ora come ora simbolicamente. Nel senso che se ne può parlare, uno dei membri della commissione è una specialista del diaconato che ha parlato per una vita intera in favore del diaconato. Bisogna vedere che tipo di supporto arriva alla commissione a questi argomenti in favore e che tipo di supporto arriva alla commissione dal resto della Chiesa, dal Vaticano, dai Vescovi, dalla Curia Romana. E presto per dirlo, quello che è importante è che è una commissione che non ha le conclusioni già scritte. Quindi si sa che deve lavorare e non si ha idea di cosa dirà, ma è una commissione in cui pare che sia aperto il dialogo e quindi c'è solo da stare a vedere. La commissione donna è una delle cose che dice che il Papa ha presente che la questione donna è sul tavolo e non si può ignorarla. Quindi vedremo, bisogna aspettare. E anche in questo caso non è una cosa che potremmo capire in tempi rapidi, ma dovremmo comunque aspettare molto. Penso che sì. Il tempo a nostra disposizione è terminato, direi anche che è volato. Grazie mille per la disponibilità, per le delucidazioni su alcuni temi, per aver presentato l'ultimo libro. Speriamo di averla qui con noi quanto prima nuovamente. Spero anch'io. Molte grazie. Grazie. È tutto anche per oggi. Grazie per la vostra cortesa attenzione. Buon proseguimento con i nostri programmi e a un nuovo episodio di Prospettive Settimanali. Grazie. Grazie a tutti.